La comunità altavillese è una comunità sana, attenta, solidale, anche la risposta emotiva a questo orrore ne è testimonianza. Non abbiamo colto nessun segnale, questo in qualche modo induce non un senso di colpa naturalmente perché non potremmo coglierli, però è uno stimolo comunque, dobbiamo essere forse tutti più attenti a segnalare per noi e per altri laddove dovessimo cogliere qualcosa che non funziona. Sento adesso della vicina o di qualcuno che aveva avuto qualche piccolo segnale, insomma è chiaro che è difficile ricondurre segnali di questo tipo poi a una tragedia di queste dimensioni. La comunità ovviamente è cioccata e inorridita, peraltro ogni momento arrivano nuovi segnali sempre più inquietanti. Adesso non è chiaro il ruolo di questa ragazzina sopravvissuta, non è chiaro il ruolo di questa coppia di palermitani. Insomma viviamo davvero con una costante inquietudine. La religione con tutto questo ovviamente non c'entra e non ci può entrare. L'ho detto più volte, ad Altavilla convivono serenamente comunità, la comunità cattolica naturalmente che è la comunità prevalente. Il paese è cresciuto, si è sviluppato all'ombra del santuario, adesso è diventato basilica, meta di grandi pellegrinaggi. Convivono poi queste realtà, queste comunità del movimento evangelico che con sobrietà predicano anche loro. E l'ho detto fino allo stremo, sia la comunità cattolica che quella evangelica predicano l'amore per la vita, per il valore dell'uomo naturalmente. Tutto questo, ripeto, non è religione. Questa è una follia che può avere forse matrice in un fanatismo religioso, questo non lo so, e saranno ovviamente gli inquirenti e i loro consulenti a stabilirlo. Ma la religione naturalmente non c'entra. La comunità intanto è davvero stretta attorno a questo dolore collettivo per la verità. È desiderosa di testimoniare questo sentimento di dolore. Lo faremo con una sobria fiaccolata probabilmente il giorno delle sequie di queste povere vittime, coinvolgendo un po' tutte le realtà locali. Perché da più parti mi chiedono appunto di poter testimoniare questo sentimento e poter ancora una volta appunto celebrare invece il valore della vita, il valore della solidarietà, dell'amore, che è quello che comunque contraddistingue questa comunità.